è così evita la massa evita i pochi evita anche il singolo non conosco nessuno con cui vorrei che tu avessi rapporti vedi come ti stimo oso affidarti a te stesso cratete raccontano biscepolo proprio di quello stilbone che ho nominato nella lettera precedente vedendo un ragazzo che passeggiava in disparte gli chiese che cosa facesse lì da solo parlo con me stesso fu la risposta e cratete replicò mi raccomando fa molta attenzione stai parlando con un cattivo individuo solitamente teniamo d'occhio chi ha in preda dolore alla paura perché non faccia cattivo uso della solitudine se uno è dissennato non deve essere lasciato a se stesso ora rimugina cattivi propositi prepara pericoli a sé o agli altri seconda turpi passioni ora manifesta tutti quei sentimenti che nascondeva per timore o per vergogna a cui c'è la sua audacia eccita la libidine fomenta l'ira infine l'unico vantaggio della solitudine cioè non confidare niente a nessuno non temere spie ma anche agli sciocchi si tradiscono da soli vedi dunque quali speranze nutro su di te anzi poiché la speranza indica un bene incerto vedi che cosa mi riprometto non c'è nessuno con cui vorrei che tu avessi rapporti piuttosto che con te stesso ripenso alle parole magnanime e vigorose da te pronunciate mi sono subito rallegrato con me stesso e ho detto queste frasi nascono dal cuore non dalle labbra costui non è uno dei tanti mira al bene parla così vivi così bada che niente possa abbatterti si pure grato agli dei per aver esaudito i tuoi voti di un tempo formulane altri nuovi chiede l'integrità della mente la salute dell'anima e poi del corpo perché non dovresti formare spesso questi voti prega dio con coraggio non è tua intenzione chiedagli nulla che appartenga ad altri ma per mandarti come al solito la lettera con un piccolo dono ecco quello che ho trovato in ateno d'oro e che secondo me corrisponde a verità sappi che sarai libero d'ogni passione quando arriverai al punto di chiedere a dio solo ciò che puoi chiedere davanti a tutti e invece come sono privi di senno gli uomini rivolgono sotto voce a dio le preghiere più turpi se qualcuno li ascolta tacciono e quello che non vogliono che gli uomini sappiano lo raccontano a dio vedi dunque se non è utile questo insegnamento vivi in mezzo agli uomini come se dio ti vedesse e parla con lui come se gli uomini ti udissero stammi bene ho avuto un colloquio con il tuo amico un ragazzo di buona indole e già le sue prime parole mi hanno mostrato la sua grandezza d'animo la sua intelligenza e i progressi morali compiuti mi ha fornito un saggio delle qualità cui terra fede non era preparato a parlare è stato colto di sorpresa mentre si concentrava solo in parte riuscì a superare quella timidezza che è un buon segno in un giovane e arrossì come dal profondo dell'anima questo rossore immagino lo seguirà sempre anche quando confermati i suoi sani principi e spogliatosi di tutti i vizi sarà ormai diventato un saggio nemmeno la saggezza può cancellare i difetti naturali del corpo e dello spirito la scienza può attenuare non vincere completamente le tendenze radicate e congenite anche certi uomini di carattere fermo sudano copiosamente davanti alla folla come se fossero stanchi e accaldati ad alcuni quando devono parlare tremono le ginocchia altri battono i denti tartagliano e hanno le labbra incollate nell'esercizio nell'esperienza possono mai cancellare questi difetti la natura esercita la sua forza e persino agli uomini più vigorosi ricorda la propria presenza valendosi delle loro debolezze tra queste c'è pure il rossore che sale d'improvviso anche al volto degli uomini più importanti ma più spesso compare nei giovani che sono più ardenti e hanno il viso delicato non risparmia però nemmeno gli anziani ai vecchi certuni vanno temuti soprattutto quando arrossiscono come se avessero perduto ogni pudore silla diventava violentissimo quando il sangue gli saliva il viso niente era più dolce del volto di pompeo arrossiva sempre davanti alla folla soprattutto se doveva tenere un discorso ricordo che fabiano chiamato in senato come testimone arrossì e quel pudore gli si confaceva mirabilmente questo non accade per debolezza d'animo ma per la singolarità di un avvenimento che se anche non sgomenta chi non è abituato lo altera se incline per natura a questo difetto infatti mentre alcuni sono di sangue calmo altri lo hanno irruente eccitabile e che affluisce rapidamente al volto come ho già detto nemmeno la saggezza può eliminare questi difetti del resto se potesse cancellarli tutti avrebbe il dominio della natura tutte le caratteristiche legate alla nascita o alla costituzione fisica persisteranno in noi anche se cercheremo a lungo e con tenacia di correggerci non possiamo sradicarle come non possiamo procurarcele gli attori che rappresentano i sentimenti che esprimono la paura la trepidazione la tristezza riescono a rendere anche la timidezza chinano il volto parlano con voce sommessa abbassano gli occhi e li tengono fissi a terra non possono però fingere il rossore è una reazione che non si può frenare né provocare nemmeno la saggezza può in questo caso garantire un rimedio o giovare ad alcuno sono fenomeni incontrollabili vanno e vengono spontaneamente ma è ormai tempo di concludere eccoti una massima utile e salutare che voglio tutti in prima bene nell'animo dobbiamo indirizzare la nostra stima verso un uomo onesto e averlo sempre davanti agli occhi per vivere come se lui ci guardasse e agire sempre come se ci vedesse questo lucidio mio è un insegnamento di epicuro egli ci ha dato e ha ragione un custode e un maestro se evitano molti errori se è presente un testimone quando si sta per commetterli è bene provare rispetto e riverenza per una persona che possa rendere più puro ogni nostro segreto sentimento con la sua autorevolezza beato chi con la sua presenza fisica o anche solo spirituale ci aiuta a demandarsi beato chi rispetta un uomo al punto di correggersi e migliorarsi anche solo ricordandolo se uno può rispettare tanto una persona presto sarà anche egli oggetto di rispetto scegli dunque catone e se ti sembra troppo intransigente scegli l'elio più mite di carattere scegli un uomo di cui approvi la vita le parole e il volto stesso specchio dell'anima tienilo sempre davanti agli occhi come guida e come esempio è necessario ti dico regolare su qualcuno la nostra condotta non si possono correggere i difetti senza una norma a cui fare riferimento sta mi bene